Nella lezione numero 33 per il chitarrismo classico riprendiamo la romanzia del vento di Cavazzoli e ne faremo una versione per una unica chitarra. Roberto Dobarpa ce l'accendo, lo trovate sul fascicolo e sulla audiocassetta numero 127. Grazie a tutti. Nella lezione numero 34, l'esercizio numero 128, abbiamo una scala di si bemolle. Guardiamo la sua diteggiatura. L'esercizio numero 129 è un allegretto di agguato, mentre invece insieme facciamo un duetto, io e Roberto, un gradevole duetto di un canto tradizionale inglese, The Last Rose of the Summer. Sentiamo appunto questa melodia che la prima chitarra ovviamente realizzerà in quinta posizione. Sul fascicolo lo trovate come numero 130. La storia è un libro che è un articolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.